amici candidi amici stracandidi bentornati sul canale dello stracandido azzurro un cordiale saluto a tutti quanti voi un abbraccio enorme a tutti gli iscritti al canale e anche a quelli che ancora non l'hanno fatto è però mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti e lasciate un bel mi piace così a fiducia e condividete il video allora lanciamoci subito nei temi di giornata abbiamo fatto come si faceva una volta il biglietto a mano con tutti i temi da affrontare man mano per non perdere il filo del discorso arriviamo dalla sfida di San Siro dalla sconfitta di San Siro una sconfitta però ricordiamocelo dai due volti fino al settantesimo un Napoli discreto che ha tenuto bene il campo ha imbrigliato bene l'Inter senza concedere praticamente palle gol se non l'occasione nel primo tempo a Lautaro su un'uscita errata di Coulibaly che poteva costarci caro poi la reazione abbiamo tenuto bene il campo non abbiamo concesso niente a una delle squadre migliori dal punto di vista offensivo tant'è vero che è il miglior attacco del campionato e poi al settantesimo o giù di lì il patatrac l'episodio che era nell'aria ma non era nell'aria l'episodio a favore dell'Inter era nell'aria che questa partita potesse finire con lo 0 a 0 o con l'episodio che avrebbe fatto pendere l'ago della bilancia da una o dall'altra parte l'episodio c'è stato è stato a favore dell'Inter perché il rigore signori miei che piace o meno è sacrosanto poi il pessimo arbitro massa perché è stato pessimo per tutto l'andamento della gara decide di diventare protagonista dell'incontro e di cacciare insigne perché 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 sentirsi dire vai a cacare secondo lui è una sorta di insulto mortale e che di conseguenza andava punito ci sono quelli che sostengono è però un rigore di regolamento ci sta va bene ne voglio vedere altrettanti di qui in avanti ne voglio vedere di espulsioni così è che questo non resti l'unico rosso del campionato a un giocatore che manda a fanculo o a cacare a seconda dei punti di vista il giudice di gara se così sarà allora va bene se così non dovesse essere la cosa mi fa un po incazzare perché poi finisce per essere l'unico cristo che parcheggia in seconda fila quando ci sono 100 macchine in seconda fila che si piglia la multa chiaro che poi ti gira le palle è segnato il rigore la partita potrebbe essere finita lì napoli in 10 inter in vantaggio invece noi reagiamo ci dimeniamo ci sbattiamo non accettiamo questa sconfitta e attacchiamo l'inter in lungo in largo la schiacciamo ma non otteniamo il risultato perché questa sera quella sera così doveva andare a fortuna non era dalla nostra parte per una volta è stata dalla parte dell'inter e anche loro nel corso del campionato qualche partita un po sfortunata ce l'hanno avuta tanto di cappello a loro ma tanto di cappello anche a noi che abbiamo fatto una grande partita abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo dimostrato di essere in grado di ribellarci a quelle che in campo consideravamo ingiustizia e non ci siamo stati poi la partita l'abbiamo comunque persa perché il palo di petagna le due grandi parate di andanovic che tra l'altro anche prima del vantaggio dell'inter era stato protagonista sul colpo di tacco di insigne le abbiamo pagate care ma non siamo usciti da san siro ridimensionati anzi anzi siamo usciti con ancora più convinzione di poter essere grandi protagonisti in questa stagione e la cosa bella è che non solo lo sappiamo noi ma lo sanno anche gli altri questo è il segnale a volte una sconfitta può avere più significato di una vittoria e questa sconfitta ha significato la certificazione di un napoli da champions a scudetto mi pare un po troppo dirlo oggi ma da champions sicuramente domani però c'è la lazio e come io vi avevo detto se fossimo usciti da san siro con un successo sarebbe stata una prova del 9 per vedere a che livello di continuità questa squadra è arrivata ma se fosse arrivata una sconfitta come poi è successo bisognava capire che tipo di reazione il napoli avrebbe potuto avere in un altro scontro diretto forse ancora più importante rispetto a quello di san siro perché la gara successiva la prossima gara è sempre quella più importante non ve lo dimenticate mai ma soprattutto adesso in questa situazione con l'emergenza perché non ci sarà insegno squalificato e tornerà col torino mercoledì mertens starà fuori per almeno un mesetto osimen rientrerà i primi di gennaio napoli in difficoltà numerica per quanto riguarda l'attacco contro una lazio che non sta benissimo dal punto di vista tecnico e probabilmente anche fisico perché martedì contro il benevento gli ultimi 15 minuti sono stati di difficoltà fisica per la squadra di simone in zaghi arrivano da un punto in due partite con verone crotone e per loro è una sorta di ultima spiaggia difficile definire la partita come definitiva come colei che ci può dare un risultato chiuso finisce qui no siamo alla dodicesima giornata tredicesima tutto può essere ribaltato ma se la lazio non guadagna punti domani lottare per la champions league potrebbe diventare molto difficile che poi ribadiamolo è quello l'obiettivo stagionale degli azzurri i primi quattro posti se poi riesce arrivare il più in alto possibile molto bene ma l'obiettivo da centrare quello è delle assenze abbiamo già parlato domani ci aspettiamo un napoli diverso diverso negli uomini perché i cambi forzatamente saranno molti meno rispetto al solito per quanto riguarda la difesa non dovrebbe esserci nulla di diverso vediamo chi andrà in porta domani a seconda di quello che vorrà fare a centrocampo bacca ioco e zenischi sicuramente dubbio fabian demme ma avendo giocato da titolare demme mercoledì a san silo mi aspetto un ritorno a fabian anche perché sto ragazzo va stimolato ha bisogno il napoli oggi che ci sia un leader perché domani in signe non ci sarà ed è lui fabian ruiz che deve dimostrare finalmente di poter vestire i panni del leader di questa squadra per quanto riguarda l'attacco i ruoli sono quelli ci sono c'è losano c'è petagna e c'è politano c'è però la carta elmas che è molto interessante perché ti può permettere di fare il 4 3 3 sia elmas che zelinski sono i due uomini che ti possono permettere di fare il 4 3 3 il 4 2 3 1 ma anche il 4 4 2 in fase di non possesso palla quindi elmas potrebbe essere la carta che gattuso dall'inizio si può giocare insieme a petagna la davanti e uno tra politano e losano per tenersi un cambio che chi non giocherà tra politano e losano parte dalla panchina e potrà incidere a gara in corso perché altrimenti ti giochi tutte quante le carte hai poca possibilità nel secondo tempo di cambiare la partita quindi vediamo come partire gattuso ma questo dovrebbe essere lo schieramento una piccola considerazione due velocissime una su martedì 22 ci sarà il ricorso al coni la cosa che io mi auguro è che ci possa essere riconsegnato il punto che noi meritatamente abbiamo conseguito sul campo se poi ci vorranno dare anche la possibilità di rigiocare la partita torino che ben venga se non ce la vorranno dare ce ne faremo una ragione se vorranno darci il punto e farci giocare ancora meglio dal nostro punto di vista io non ho basi giuridiche per darvi una anticipazione di quello che potrà essere l'esito del ricorso del napoli al al coni vediamo come va a finire però almeno il 23 sapremo quasi definitivamente quello che è il giudizio definitivo dell'ultimo grado della giustizia sportiva poi il buon De Laurentiis così pare andrà fino al tarra e fino al consiglio di stato quelli però sono problemi suoi io penso anche che De Laurentiis in questi primi mesi stagionali non abbia voluto dire tante cose le dichiarazioni si contano sulle dita di una mano sono pochissime le dichiarazioni di Laurentiis proprio per non appesantire il fastidio nei confronti della federcalcio e delle della federazione in generale della lega il coni non ha detto niente nonostante ci potessero dire tante cose su questo su questo su come sia stato l'andamento in questi primi mesi di questa nuova stagione l'unico che ci mette la faccia fino ad oggi è il buon rino gattuso verso il quale mi tolgo il cappello bravorino me lo rimetto il cappello per fare un'ultima considerazione sul mercato perché adesso il mercato piano piano riparte si ipotizza di un olio oriente o che è stato convocato è che quindi se domani dovesse servire tutto sommato lo puoi sempre buttare in campo se decidi di portarlo vuol dire che il giocatore c'è per poter giocare ma che dovrebbe essere vicino alla sampdoria quindi potrebbe essere un rischio però se domani sarà necessario farlo bisognerà buttarlo nella mischia tu pensa se segnasse il gol decisivo all'olimpico il buon fernando liorente poi ci saluta tutti chissà però c'è un altro giocatore che è lì per andarsene non se ne va se ne doveva andare già da un po di tempo il polacone arec milic no che continua a fare i suoi tweet nonostante tutto io continuo ad allenarmi col sorriso vai affanculo col sorriso perché prima te ne vai e meglio starò prima te ne vai e prima starò meglio mettiamola così io non li ho mai dimenticati ce li ho ancora sul qui che non scendono il gol sbagliato a san siro a un passo da donna roma e quello clamoroso a liverpool con allison che ha fatto il paratone ma buttala bene dentro e vedi che il paratone alison non lo fa vuoi andare al milan vai al milan a fare il vice ibra vuoi andare alla juve vai alla juve a fare il vice morata vuoi andare all'inter vai all'inter a fare il vice lukaku vuoi andare alla roma vai alla roma a fare il vice gecko vuoi andare all'atletico madrid vai all'atletico madrid a fare il vice suarez il vice dieco costa vuoi andare al tottenham vai a fare il vice Bale, il vice Kane sarai sempre il vice non sarai mai nessuno mai nessuno e con questo sfogo finale su Milik che io non voglio più vedere da queste parti e che nel giorno in cui se ne andrà a meno che non decida di rimanere fino a fine dell'anno e vabbè ce ne faremo una ragione gli dedicherò anche una canzoncina di gioia per la sua dipartita sportiva, ci mancherebbe altro la sua dipartita, la sua fine dell'esperienza con la maglia tanto bella del Napoli cari amici stracandidi, io vi ringrazio, vi saluto vi auguro una buona serata a tutti quanti voi, vi ricordo di mettere un bel mi piace di condividere il video, perché no su tutte le piattaforme possibili e immaginabili di iscrivervi al canale ricordatevi, iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale dobbiamo arrivare in fretta e furia 250 iscritti, bisogna salire porca puttana, porca puttana bisogna salire aggiornate, aggiornate niente attivate la campanella per avere tutti gli aggiornamenti e oh non vi dimenticate che domani 22.30 circa c'è la reaction di Napoli Lazio Napoli poi si entra la settimana di Natale e siamo già addobbati abbiamo messo anche in galera il buon Lebron James che non riesce a uscire la bolla la bolla Lebron è la bolla di Lebron però quest'anno non dovrebbe essere Cinembi con la bolla non si sa non si sa vedremo quello che sarà amici vi ho già trattenuto abbastanza buona serata a tutti e a domani oh mi raccomando forza Napoli sempre a domani